Saludando i cardinali presenti in Vaticano, Benedetto XVI ha ripetuto che la Chiesa è nel mondo ma non è del mondo. Benedetto XVI ha preso congedo dal Collegio Cardinalizio ricordando che è stata una gioia camminare insieme in questi anni ed ha auspicato ancora che lo stesso Collegio Cardinalizio sia come un'orchestra per arrivare ad una superiore e concorde armonia. Quanto alla Chiesa ha ripetuto le parole del teologo Romano Guardini quando scrisse che è una realtà vivente in divenire eppure nella sua natura rimane sempre la stessa. Benedetto XVI ha concluso promettendo obbedienza e riverenza al nuovo Papa.